Il sindaco è il firmatario del TSO e di conseguenza ci rivolgiamo a lui per creare una persona di fiducia per le persone di disabilità psittica che vengono sottoposte al TSO perché purtroppo e dolorosamente lo devo dire Stefano, Francesco, Mauro, Andrea sono morti durante un TSO. Il TSO è una manovra contro i diritti umani e per questo noi chiediamo che venga rivista, che si vengano applicate delle diverse normative come prevede la Convenzione ONU e che si rispettino i diritti della persona. Mio fratello e Francesco Mastogiovanni e Andrea Sordi sarebbero ancora vivi se questo fosse stato fatto. Di conseguenza impegniamo un po' le forze che abbiamo per aiutare i malati psittici. Oggi Astrea compie quattro anni, è nata in memoria di Stefano Biondo. Quali, eventualmente, quali altre proposte fate e quali sono le strade da percorso? Noi ci stiamo rivolgendo al sindaco e per conoscenza al forum del terzo settore, il portavoce Francesco Priolo perché insieme vogliamo elaborare e aiutare il sindaco e l'amministrazione ad elaborare cure alternative per i malati psittici per non arrivare al TSO e qualora si dovesse malaguratamente arrivare al TSO che ci sia presente anche una persona di fiducia.